musica 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 allora adesso io carico qua e faccio bomb nel computer bong bertra sei un pericolo pubblico si wooo la 5 adesso voglio anche quella bertra cazzo se ce la fai cazzo se ce la fai fagli vedere chi sei tocchi la verde si può spostare nooo vai lascialo cioè difetti funzionali a giocare se sei veramente il top del top la colpisci di lato la butti giù colpisci la loro quindi la lanci in su però devi colpirmi prima la verde vabbè ma è proprio il cancer oh no cos'è successo a questo tiro fallo bene poi si chiede perchè lo picchio mentre dorme perchè se lo facessi quando sveglio me le ridà ah perchè fallo vuol dire anche pene adesso ho capito porco si chi pronto? si pronto carabinieri a carico di chi? dio best dio amore piano 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 devi colpirla in mezzo però la palla di base vuoi che colpisca te in mezzo piano va benissimo va benissimo va benissimo va benissimo passa qua passa qua allora devi prendere la 15 che colpisce la 1 che sposta la 8 che entra la 15 ezz 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 saluto grazie ce la puoi fare giovane ma nooo ma dovevi far rispondare eh l'ha messa lì guarda che bella il mio dito sicuramente non l'hai messo merda uuhuu eeeh che sfigato che sfigato se vincono devo offrire la cena se vincono oh bravo facci offrire cena che ho tanta fama fermo 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 ti do il bastone il bastone del pirna ah si letteralmente se bertra riga il biliardo regala 40 buonamente allora fai così la tocchi pienissimo e tocchi la 1 senza buttarla giù basta che la tocchi letteralmente puoi fare così vedete non tryardare e tirare la palla contro le palle oh la questo si chiama non tryardare a casa mia colpire la 1 di proposito senza neanche passare per la bianca si vuole un supportino no no questa cosa è molto poco etero mi viene da ridere di un po' ragno di uno stabile dai tira oh la two youtubers hold my stick la mia la mia con tutti questi abbonamenti si compra un paio di scarpe questo qui è un regalo di mia madre delle sue ferie ok è finita Dio si attenzione che tenta la settupla sponda gol gol ragazzi no funziona così no ma è comunque un tiro ok ora succede una cosa bella Bertla tu da qui devi lanciarla dritte e tu guarderla 1 mi ricordate la prima volta del biliardo? che queste situazioni qui duravano per 50 anni un po' finivano con qualcuno che si stufa e ce ne andiamo a casa generalmente quello che si stufava era l'ever è vero che in queste condizioni dice ok basta ciao andiamo bravo bravissimo vieni qua è il tuo momento vuoi mettere la 15 in buca voglio andare lì ma non c'è una fisica ma si ma piano piano ce la fai te l'avvicino guardala guardala ma non c'è una fisica per qui adesso se leo no leo giochi così è finita raga è finita leo se non la metti ti offro 4 amighiri grazie ok ce l'ho aperta buono grazie signore c'è la clip posso ricominciare a fingere di non saper giocare a posto squadra 17 torna contro squadra grazie Matteo per i 4 bentornato squadra 17 contro squadra grazie Matteo per i 4 bentornato la targhetta deve ancora ordinarla raga squadra 17 contro squadra la targhetta devo ancora ordinarla stavo rispondendo al sub squadra 17 contro squadra stavo rispondendo al sub dovrebbero legalizzare la violenza su twitch così squadra 17 contro squadra dovrebbero legalizzare la violenza su twitch mettiti anche le altre due a leva fai il trenino 4 8 ma chi balicam 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 ma dio po cosa fa? è stato outplayato dal gioco ha fatto pop off ha fatto dentro anche ha fatto pop off ok ha fatto la ta 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 e uscita fuori anche Leo quindi siamo pari ora dovrebbero legalizzare la violenza volevo avere la possibilità di pestare bertra su twitch buona fortuna io volevo questa possibilità tu non puoi averla ah cioè che diventa proprio un pestaggio e basta è un handicap match di mma dove ci sei fermo in una feria legato o no this is a scav e andrea è una motos***a ma questo non è mma questo lo dici tu si un bel agglomerato lì questa partita è un pacciugo tocca a tocca a te quello è un assembramento un assembramento yes arriva ma ha curvato sul tavolo Non è vero questa dritta per dritta No, ha curvato così Probabilmente hai la curvatura del lente a contatto che ti ha ingannato Ma vaffa in culo Tu hai la curvatura nel cervello Boh, la palletta da dritta No, Leo, ma si è qui Yes La vittoria, più mediano di sempre E sono due su due Vai, con i comiti, con i comiti E Giochiamo a biliardo con le mani Giochiamo a biliardo ma in faccia alle altre persone Dai, terza partita, io con Bert No, io con Leo Io con Giovanna Biliardi ad ostacoli Vi ricordate che sofferenza quel video? Non è mai uscito? Non è mai uscito, sì, sì I problemi erano talmente numerosi C'era la tua camera che non metteva fuoco La sua persona Quella non, no, no Sì, sì, non metteva fuoco C'era l'iso sparata a mille In più, lei ha stoppato il microfono E anche lui In più, il video faceva poco rile Mi pare che c'era Oltre me qualcun altro Anche aveva stoppato il microfono Ma dopo un bel po' No, no Io all'inizio inizio E poi dopo 40 minuti uno Goal Forse nemmeno di Atrix No, però, porco Hanno perso Ha buttato giù la lunga Ma Dio, Mauro C'era Come è tra i persi? Congratulazioni Complimenti Congratulazioni La mia più notte della storia ha messo Congratulazioni Raga, mi concentro come se fosse La finale mondiale di biliardo In questa parola di labbra E' messo un po' di gesso allora sulla stecca Già messo? No, no, ne manca Secondo me devi mettere un po' di gesso E' Un biliardare meglio Aumenta la precisione del 50% Aumenta le skill Come l'RGB sui computer 500 fresse extra Allora, la 1 è qua, Giovanni Non c'è una fisica dove la colpisci ora come ora? Stop, meme a sproposito Leo Ho detto che è la finale mondiale di biliardo L'ho detto, l'ho detto Fallo Non rompete i coglioni Sono fatto Mi hanno fatto 4 tiri bonus Non è fallo Fallo Cazzo dite Finale dei mondiali Tuk Non rompete i coglioni 13 Goal Va bene Abbiamo 4 lì davanti La 15 è messa lì nell'angolo La 8 è messa Ma tranquillo Mi dia la sua asta del potere Si ha A molto paveri Gli altissimi fiori Produciamo Oppio Sai darsi proprio il nervo Bruciarsi il nervo E poi da 5 di fuoco Oddio Se faccio questo voglio una sega La 15 non deve entrare Bertra Se faccio questa voglio Di chi sono queste? Mie Posso? Si Vabbè Questa basta 3 tiri Dio Mi ringrazio Ce la sto facendo Si non sul tavolo Cavo una mano io qua Mh Lemon soda Ma l'hai già mezza aperta No non è aperta Non esce La soglia di attenzione Ma spera se vuoi te la provo con il cavatappi Sei un cazzino storto di merda Questo qui lo chiamo il Picasso Perché è storto Si Bertra Non puoi capire la 8 che non è nostra Per buttare giù la 9 che è nostra però Non posso Cioè puoi ma è super sleale E fallo L'auto era nostra Fallo Bertra La 8 era nostra secca Non devi proprio toccarla Cioè questa combassa qui È sleale Perché noi siamo talmente figli Che non vogliamo riposizionare le palle Sennò andrebbero riposizionate probabilmente Uh hard mordi si è subbato Come hai fatto? Cosa hai fatto? Ma zia Era un po' più di qua Come hai fatto a subbarsi? A po' po' Quando è andato a un free probabilmente No intendo Ok Fuck fuck Fuckcheroni scitteroni Tipo Grazie Giovanni È andata giù la nostra 3 Veramente Io La gentilezza nel cuore Hai detto bene Leo La nostra È la rossa 8 gold 8 e mezzo Ferrara Ferrari La Macchina Un freddo cane ragazzi Quindi Sì sono freddo Ui Uuu Non bannare gente Ho spandato Ho spandato Non bannarlo Lo time out Posso tirare? Stavo combinando Ti può sapere Non bannare È lì È qui Lo spendo io Che cazzo Hai mirata Giovanni Che potevo Meme delle Tre tacche Usate le stecche rotte Per fare queste cose Ok Bertra Oh No aspetta Guarda dove cazzo l'ho messa Guarda dove cazzo l'ho messa Qu'è quella rotta? Boh Guarda questa Ma è da svitare comunque No c'è una che non si svita Stavo per rompere questa Bertra Ma Niente Ma qual è quella rotta? Quella Oh Andrea Andrea Adesso è tua È tua È tua È tua È tua La 8 È tua È tua La 8 La 8 La 8 La 8 La 8 Non ti avvicinare con così tanta velocità La 8 lì Bertra puoi togliere a te che dobbiamo vincere una partita noi Sposta È un massaggio bellissimo Continua Oh sì Anche sul cazzo Aiuto Mi sento violentato Twitch Proteggimi Merda Aspetta aspetta Merda Aspetta Ma No Non ti devi mettere quei piedi sui pannelli con l'assorbente Devi fare il tuo turno Che palle Dammi una scheggia Adesso ci crescono i funghi Problemi catastani Gol Esatto Così va un po' di meno Avrei fatto avviare Tu vuoi andare troppo verso l'alto Porca puttana Vai Ok Eh no Gli ho regalata Ok 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 No no Perché è spostata? Perché Giovanni l'ha spostata Hai visto che è rogliato Hai visto che è rogliato? Voi hai visto con chi giochi? Che figlio d'androcchia Vabbè stiamo trollati oggi Questa è una compressione mentale Oh no Ah Giova aspetta No 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 Giova aspetta Giova aspetta No Giova occhio portatile Ma fa schifo quel po' di più Leo la palla Ma mesta Oh C'è una che si toccano Nooo Mi faccio una sega Godo Dio Cioè non è che bisogna arrabbiarsi Non può entrare una palla In una buca fatta in questo po' Figa Entrare Ma che dovete fare? Colpire l'otto? Colpire l'otto e riportarla un po' giù Molto Oh Ma Dio povero Bertra Bertra Ora Per favore Ma Bertra La 9 È perfetta Dio povero Farmati sto Baron Farmati sto Baron La smaita sto Baron Acqua di mare Fallo sbagliare Tira pianissimo Acqua di mare Acqua di mare Ma c'è Ma ci vedi? C'è Era Leo Ecc 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 Aia La stardo Che manca Ragazzi Che manca Cosa disse in questa partita? È come se fosse la finale mondiale di biliardo Che hai perso col primo tiro No lui può Vincer la partita Oh yes Perché se va giù la bianca e la 1 Oggi finisce male Termina streaming con un tasto Oh no Oh no Oh no I made mist Allora Bertra Una cosa Se la bianca rimane in questa metà campo Loro sono più in difficoltà per colpire l'otto Quindi fai rimanere la bianca in questa metà campo Sì sono capace Allora Ho anche fatto un bel tiro! Non era un bel tiro e l'abbiamo perso! God! Eh vabbè! Quindi Giovanni con zero vittorie Allora, una me l'hai andata a Bertra, una me l'hai andata a Leo Una te l'hai sentata da su! Tre me le ho sentate io, però figa! Che goduria! Ragazzi, e... E' una di cena da due ore qua a Trento Questa va diritta a diritta sui newb live Che cazzo! Ciao!